Sì, sono Firebird e benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Friends. Oggi siamo qui per fare una cosa molto bella, ovvero migliorare l'ultima tesla. Però prima di farlo voglio arrivare a 10 milioni e poi la faremo. Allora, visto che l'esercito non è pronto, a me non può fare niente, e anzi, visto che ci sono, ho completato anche la missione. Bene, bene, bene. Andiamo, faremo due attacchi così ho completato anche la missione perché, come saprete, sono iniziati i giochi del clan. Sì, sono iniziati i giochi del clan. Vi consiglio di fare le missioni perché ho visto le ricompense. veramente non le ho viste, però mi sembrano molto scose. Ma veramente sono sempre scose, diciamo la verità. Ora, sì, non le fanno proprio che se le finisci ti completi il Clash of Friends, però almeno, cioè, le fanno un po' scose, dai, più o meno, sì, dai. Vabbè. Comunque, ho messo purtroppo due cura. Non è vero, non ho messo una salta. Perfetto. Andiamo così, così. Il ritorno delle cure, maledetta. E, ah, comunque, ci siamo, andiamo a vedere anche le ricompense perché, appunto, io non le ho viste. Cioè, non le ho viste. Ma davvero? Io sono iniziato per due giorni e non le ho viste. Ma vergogna ti fai. Vabbè. Comunque, faremo un attacco qui e un attacco nel secondo villaggio perché, purtroppo, l'esercito non è pronto. E, ragazzi, questo video è proprio improvvisato perché l'ho dovuto fare perché ero full di oro e quindi lo volevo fare questo video. E quindi... Ma è un driss. Ma ho fatto un driss di lamento a caso. Senza l'esercito maxato. Vabbè, perfetto, eh. Cioè, io non mi lamento, eh. Perché così faccio la missione molto più velocemente. Però, sì, dai, sono molto contento. Allora, purtroppo, il cannone... Non è vero. Boh, non pensavo che aveva tagliato la Queen. Invece no. Allora, spero che il pecca... Eh, Queen, tu aspetta un po', dai. Cioè, ho capito che sei veloce, però aspetta. Perché il pecca praticamente ti tanga. Cioè, è una macchina da questo pecca. Cioè... Ah, mi scocca tu un dito. Ok, a caso. Gigi, per me. Cioè... Ok. Allora, andiamo a vedere subito... Ok. Andiamo a vedere subito le recompense. Ecco qua, no? Così, così. Ok. Andiamo a vedere le recompense. Aspetta. 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 Ehi. Cosa ci fate voi due... Ah, c'è un becco in più. Ok. Non l'avevo calcolato quel peccone. Molto... Vabbè, peccoso. Andiamo così qua. Qua. Andiamo a vedere. Eh, vabbè. Ma forse ce la faccio anche, raga. Vabbè, poi... Faccio delle cose strane. Vediamo. Eh, beh, beh. Bello queste due. Se facciamo 4.000 punti... E io... Cioè... Non per mandarle. Però di solito li faccio. 4.000 punti. C'è un reale... Ok, in vita. Quindi andiamo a fare questa cosa che... Cioè... Non fatela a casa. Perché è illegale fare questa cosa. È illegale. Andate qua un attimo. Cioè, ho preso il villaggio che aveva delle cose nel clan. Cioè, ma quanto... Ma quanta fortuna posso avere io? Cioè... Ok, 82.000 punti. Andiamo un attimo di nuovo. Allora... Io farei... Farei... Cioè, di qua... Allora, di qua. Sì, sì. Bene. 3%. 4.000. 5.000. 6.000. Vabbè, andiamo a prendere la bomba. Allora... No, raga. Voglio finire la missione con voi. Cioè, è proprio... È una questione di vita o di morte. Cioè... Per me... No, per voi. Allora... Visto che aspettiamo... Andiamo ad attaccare il primo villaggio. Che... Sì... Qua... È sempre bello attaccare perché... Perché... A caso. Cioè... Molto che hanno diminuito le... Le missioni del secondo villaggio... Fare 4.000 punti sono un po' lenti da fare. Però... Li faremo sicuri perché... Cioè, in 6 giorni, raga. Easy. Già ne ho fatto mille. Perché se completo la missione... Già sono a mille. Quindi... Stra easy. E fare 4.000 punti. Poi in 6 giorni, ripeto... Cioè... È troppo facile. Troppo facile! Troppo fast! Fast! È troppo easy! Sì, sono un americano. Nel cuore. Più è. Allora... Facciamo così, così, così. Andiamo di qua. Usciamo. Per lì, sì, così. Allora, grazie Giulio. Per lo sguardo da Muri. Grazie mille. Allora, allora, allora. E... Ho il gran sorvegliamento attivo. Allora, ragazzi. Appena finisco la missione. Facciamo la Tesla. Ci vediamo in un prossimo video. Appena però si svegli il gran sorvegliante. Che mancano 20 secondi. Quindi, per intrattenere... Adesso che sono un bravo youtuber. Più o meno. Facciamo. Guarda. Facciamo. Facciamo. Vabbè. Facciamo. Ma non è questo? Facciamo. Facciadiamo. Facciadiamo. Un altro attacco sul secondo. Sì, sì, sì. Andiamo così, così. Per spegcare 20 secondi. Non è per fare cose molto brutte. Per fare solamente 20 secondi. Basta. Comunque. Vabbè, ragazzi. Tipo ci vuole tanto per fare la cosa. La missione. Che tipo faccio 2% a botta. Me la faccio a camera. Cioè. Pazienza. Che devo dire. Allora, qui per esempio. Posso fare un po' di percentuali. Andiamo. Aia. Allora, il percentuale qua. Volano. Volano. La 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 la. La la. Vabbè. Mi sa che ora viene un riluvio universale. Vabbè. Sì. Quando canta Firebite con la sua vocina. Molto carina. Carina. Più o meno. Ok. Perfetto. Perfetto. Raga. Perfetto. 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 Non so perché. Sto piando perfetto. Vabbè. Facciamo. Così. Così. Facciamo di così. Facciamo così. Così. Intendo abilitare. Le cose qui. Ok. Finita la missione. GG raga. GG. Ora raga. Mi scelgo un'altra ancora. Che però questa qua. La faccio off-camp. Non è vero. Non è vero. Questa me la faccio qui. Eh già. Eh già. Eh già. Attiviamo questa. E poi raga. Facciamo le cose. Cioè. Vabbè. Capite. Capite. No. Metterò. La tesla. Finita. Finita. Easy. Easy boys. Questo è un multiplayer. No. Non mi piace. E. Questa va bene la farò. Non so. Da solito. Vabbè ragazzi. Detto questo. Facciamo la tesla. 3. 2. 1. Anzi. Aspettate. Vi faccio. Due muretti. Ora possiamo andare. 3. 2. 1. Via. Oh yes. Vabbè ragazzi. Detto questo. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao.